Musica Ciao, ti do oggi o benvenuto a questa presentazione dei 10 consigli per dimagrire velocemente con la dieta di TAN. Mi chiamo Novella Buongiorno e sono uno degli autori del sito web lamedetaducan.com. Noi del sito lamedetaducan.com abbiamo realizzato una serie di 10 video dal titolo 10 trucchi per la dieta di TAN. In ognuno di questi video troverai un consiglio sempre diverso per raggiungere rapidamente e in tutta sicurezza il tuo giusto peso. Oggi puoi avere subito la serie completa di questi 10 video assolutamente in forma gratuita, direttamente nella tua cartella di post elettronica. Per rivedere questi video, quindi per riceverli, ti basta inviarci la tua richiesta compilando il modulo che trovi nella pagina del nostro sito all'indirizzo www.trucchi.lamedetaducan.com. Ecco alcuni dei trucchi che troverai in questa serie di video. Gli speciali alimenti bruciagrassi che fanno perdere peso mangiando a volontà. Quello che è quasi nessuno ti dice sui dolcificanti. Il metodo per cucinare le uova eliminando il colesterolo. Come diminuire il gonfiore causato dalla ritenzione di liquidi. Inoltre, richiedendo i video con i 10 trucchi per la dieta Dukan, diventerai anche membro della nostra newsletter, ossia quel bollettire elettronico dedicato alla dieta Dukan. La nostra newsletter è quel servizio grazie al quale riceverai periodicamente delle email di aggiornamento sui temi che riguardano il benessere, la salute e la dieta Dukan in particolare. Ecco alcuni esempi dei contenuti che riceverai come membro della newsletter. Le segnalazioni sui nuovi articoli pubblicati sul sito lamierdietadukan.com Nuovi consigli su come dimagrire velocemente senza soffrire Le testimonianze, le opinioni e i casi di successo di chi ha già provato la dieta Dukan Recensioni e offerte speciali sui migliori prodotti per dimagrire E tutto questo lo puoi avere completamente gratis, quindi approfittami subito Inviaci la tua richiesta adesso Vai su www.trucchi.lamierdietadukan.com Grazie per aver visto questo video Buona dieta e ciao! Grazie per aver guardato il video